Si rafforzano i rapporti di amicizia fra Puglia e Slovenia. Il 24 luglio scorso a Bari, in Viale Kennedy, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede del nuovo Consolato Generale Onorario della Repubblica di Slovenia per la Puglia e la Basilicata. L'ambasciatore Izdok Mirosic, accompagnato dal primo segretario Urska Krizai, insieme al Consolato Generale Onorario Giacomo Oliveri, hanno illustrato i progetti di cooperazione culturale, economica e sociale. L'Adriatico unisce i due paesi, ma l'apertura di una sede del Consolato sloveno nel capoluogo pugliese è proiettata nella direzione di una intensificazione degli scambi e dei rapporti commerciali e soprattutto di quelli culturali. Il gemellaggio tra Bari e Ljubljana era stato anticipato dalla visita nella capitale della Repubblica slovena dal Consolato Onorario di Puglia e Basilicata Giacomo Olivieri. Un'occasione per parlare di iniziative, di promozione turistica, commerciale e culturale. Fra queste la partecipazione alla Borsa del Turismo sloveno, i collegamenti con il porto di Capodistri e quelli aerei. Una occasione per far conoscere le potenzialità del territorio appulo-lucano e in particolare di Bari, che deve recuperare il suo ruolo di città faro nella macro-regione Adriatico-Ionica. Un collegamento Adriatico direi tra Slovenia e Italia, soprattutto Puglia. Come voi sapete la Slovenia e Puglia sono collegate con l'Adriatico, ma ci conosciamo troppo poco. E' questo intensio, vogliamo fare la conoscenza migliore tra i pugliesi e sloveni, aumentare lo scambio economico tra Slovenia e Puglia e forse creare qualche posto di lavoro di più, ma soprattutto anche farci conoscere meglio tramite la presentazione culturale sia quella pugliese in Slovenia sia quella slovenia in Puglia. E ne ho piena fiducia che Avvocato Olivieri sarà in grado e capace di fare questa amicizia tra pugliesi e italiani, pugliesi e sloveni, a metterla a un livello più alto di adesso. Abbiamo raccolto il frutto di un lavoro durato due anni, Sua Eccellenza è stato qui varie volte, è riuscito a stabilire un rapporto anche di empatia con i pugliesi, con l'ex sindaco e attuale governatore Emiliano e un po' con tutta la classe produttiva della Puglia e Basilicata. I rapporti sono quelli che avete visto, di estrema cordialità ma di estrema fiducia, di un miglioramento costante che potrà essere nei prossimi anni. Grazie. 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 Grazie.